Classica domenica da dimenticare, battuta d'arresto per certi versi fisiologica, se lo augurano fortemente i tesserati del Bitonto, ingiusto e per nulla corretto parlare al momento di campanello d'allarme dopo la sconfitta seppur pesante per 3-0, rimediata domenica scorsa nel derby giocato a Gravina, per i nero-verdi d'altronde si tratta della prima sconfitta stagionale tra campionato e Coppa Italia, di sicuro però ha fatto rumore per come è maturata e per come si è sviluppata la trama dell'incontro, Bitontini sotto di tre reti già all'intervallo, ha fatto rumore, specie per una squadra come quella allenata da Claudio De Luca che aveva vinto le precedenti sei gare di questa Serie D. Quello che abbiamo fatto noi nelle altre partite, andando a rete subito dopo pochi secondi con la cattiveria agonistica che serve in questo campionato, l'hanno fatto gli avversari, quindi vanno fatti complimenti agli avversari e noi non abbiamo fatto nulla di tutto quello che invece abbiamo fatto nelle precedenti nove partite, dal punto di vista della cattiveria agonistica, dell'intensità. Il campionato è questo, io l'ho detto più volte, spesso non è che serve fare giocate spettacolari ma in questo campionato serve correre, serve pressare, serve essere cattivi. Oggi gli avversari hanno vinto tutte le seconde palle, hanno vinto tutti i duelli. Questione di atteggiamento dunque, totalmente diverso da quello mostrato tante volte in precedenza dal Bitonto, serve un'altra mentalità rispetto alla sfida del vicino, lo sa bene, pure Claudio De Luca lo sanno bene anche i suoi ragazzi che possono comunque consolarsi. Con il primato in classifica sempre di proprietà, occhio però alle rivali, la casertana ora è a meno uno e il cerignola è passato da meno otto a meno cinque. Noi è dall'inizio che comunque stiamo facendo quello che dobbiamo fare in tutti i modi naturalmente, quando stai primo in classifica diventi antipatico, ti provano a buttare giù da tutti i punti di vista e oggi invece siamo stati noi a buttarci giù da soli perché non abbiamo fatto quello che di solito sappiamo. Noi non chiediamo la luna, sappiamo che cosa è questo campionato che conosciamo da tanto tempo, serve intensità, serve cattiveria agonistica, serve voglia di vincere. Oggi la squadra avversaria ha dimostrato di averne più di noi e questo non mi piace perché noi siamo una squadra che ci siamo costruito il nostro percorso sul campo, può anche capitare perché nell'arco di un campionato capita una partita non storta, però ci abbiamo messo secondo me tanto del nostro per perdere questa gara. Solo una domenica storta per il Bitonto, la risposta arriverà. Domenica prossima al Città degli Olivi contro il Biceglie, vincere significerebbe sia rialzare la testa che arrivare in testa alla classifica al successivo scontro diretto con la Casertana. Roma non di poco conto per la testa dei calciatori.